E' una persona scritta come te, che non fa prediche e non ti giudica. E' una persona scritta come te, che non fa prediche e non ti giudica. E' una persona scritta come te, che non fa prediche e non ti giudica. E' una persona scritta come te, che non fa prediche e non ti giudica.